non c'è problema. Senti, a proposito di questo, ci vuoi raccontare l'episodio del trucco? No, guarda, tra l'altro fa anche parte di un monologo che sta, mi sembra, pure su YouTube, nel senso in cui io parlo del fatto che quando fai la televisione, quel tipo di televisione di intrattenimento così, devi un attimo rivedere l'idea di te stessa e quindi sostanzialmente ti confronti con tanta figa, cioè questo è il discorso. Tanta, tanta figa. Altra cosa interessante per me è stata fare questa cosa in Rai perché volevano completamente snaturarmi, quindi mettiti il tubino di paillette, mettiti il racchiaspilo e invece io veramente fino alla fine con le t-shirt, con le cose, perché poi voglio dire, se me lo dai te il vestito con le tizze di fuori io me lo metto pure, ma se me lo devo comprare io no. Quindi va benissimo la t-shirt. E vabbè, una volta ero al trucco con Raffaella Fico. Che salutiamo, assidua ascoltatrice di Tintoria. Tratto è già nominata altre volte. Non è la prima volta che viene nominata a Tintoria, pure recentemente, clamoroso. Oggettivamente è una figa, Raffaella Fico è una figa. È una figa. L'hai detto tu che lo puoi dire. Sì, la figa che è fattura, che è la figa vera. E quindi vabbè, sai, tu ti trovi al trucco e parrucco struccata, io poi all'epoca avevo i capelli molto corti, più corti di così. E lei è oggettivamente una bellissima ragazza, un po' più giovane, insomma. E io ho sto parrucchiere alla Rai di Napoli, Jenny, che salutiamo veramente, che diceva, era fissato che era difficile pettinarmi. Cioè, feceva certe scene, diceva, mamma mia, vesti i capelli, proprio ogni volta, ogni volta che mi vedeva. Allora io speravo che quella sera almeno... Puisse clemente. No. Invece quella sera era partito proprio carico, ha cominciato, no, beh, perché io quando ti ha già pettinato, perché tu, te ne sta vertigine qua dietro, in tv sembri pelata, con la luce. Dico, no, beh, dico, dai, no, ma poi col phone abbiamo sempre risolto. No, no, però, guarda, ma ti ha già trovato la soluzione, tira fuori un fard scuro, prendo un pennello e mi comincia a picchiettare qua dietro, che già... Sulla fontanella. Già è una cosa, cioè, di un umiliante, proprio sudato, mi stavo sentendo, mi schiettava qua, e poi a un certo punto non contento, fa stare tranquilla, vai, faccio trovare la soluzione, questo funziona, lo facevo pure a Pippo Baudo. Bellissimo. Bellissimo. Vedi, questo adesso io lo taglio e diventa una clip di tintoria, che così diventiamo virali. Perfetto. Beh, questo fa ridere. È bello sapere che è una cosa in comune con Pippo Baudo. Eh beh, ma scusa, il cui vero nome è Baudo Pippo, tra l'altro, forse non tutti sanno. Anche questa l'ha già fatto. Anche questa è in un'altra puntata. Quante cose, io questa cosa non la sapevo, quante cose si imparano. Questo non è vero, io lo dico solo perché Pippo Franco, il vero nome è Franco Pippo, allora ogni volta viene nominato Pippo Baudo. No, no, io non ti avevo creduto, stavo cercando di dare un'aura un po' di... Grazie, allora non ho capito. Un po' di... Poi è Francesco Pippo. Eh, sì, vedi, vabbè. Chi? Pippo Franco. Si chiama Franco Pippo, Francesco Pippo? Sì. Ah, ok, vedi. Se non sbaglio. Vabbè, può essere. No, noi cerchiamo da così. Ma perché Pippo, cioè mi pare di capire che al sud è un dimensito di Giuseppe? Non di Filippo? Non lo so, forse... Peppe e Giuseppe. Peppe e Giuseppe. Pippo sarà Filippo. Sarà Filippo. Vabbè, non lo so, però perché Pippo è il cognome ed è anche il titolo di una canzone di Davide Marini, quella però parla di animali e droghe sintetiche. Quanta cultura a Tintoria, cioè tanti riferimenti. Guarda, copriamo tutto lo spettro dell'intrattenimento italiano. Ma sono proprio contento.